I temi della sostenibilità ambientale sono i temi forse i più importanti insieme a quelli della pace e della nostra epoca. Quello che è il problema di oggi, un po' per tutti, proprio quello legato alla sostenibilità ambientale è al tema dei cambiamenti climatici e a quello che le città e i sindaci possono fare per ridurre questi rischi enormi che ci sono per i cittadini. Sostenibilità ambientale ed energetica è stato il titolo del nuovo incontro della Scuola di Educazione Civica con un relatore d'eccezione, il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli. Il rischio lo vedete, siccome piove sempre peggio, ci sono problemi legati all'esondazione dei corsi d'acqua, ci sono problemi legati alla cattiva gestione dell'agricoltura dovuta alle esondazioni e tutto quello che significa poi l'inquinamento per altro verso dovuto ai gas serra. L'inizio del nuovo anno è anche tempo di bilanci per la Scuola di Educazione Civica promossa dall'associazione Tratevere D'Arno. Un bel bilancio inattivo, fortemente inattivo, nel senso che i ragazzi, oramai sono centinaia e centinaia che sono stati presenti alle lezioni, vere e proprie lezioni di educazione civica nelle scuole superiori della città e della nostra provincia, sono stati, a mio parere, straordinariamente attenti. Io, alla loro età, forse sarei stato meno attento. Un'avventura iniziata ad ottobre che continuerà il suo cammino per tutto l'anno scolastico e che dà la possibilità di immergersi nell'educazione civica, materia tornata nelle scuole nel 2020. Loro hanno due valutazioni annuali, nel primo quadrimestre e nel secondo quadrimestre, in base chiaramente a un lavoro svolto. Alcune scuole hanno praticamente fatto una programmazione di istituto, altre scuole hanno fatto adottare un libro di testo, ma l'esperienza diretta che arriva da questi personaggi che si sono praticamente uniti alla nostra idea è chiaramente superiore. Per esempio, la lezione che ha fatto il dottor Rossi l'altra volta sulla sostenibilità è stata praticamente considerare l'atto alimentare come un atto ambientale. Questo il libro non lo dice.